Abbiamo inserito in sovraimpressione se ci sono delle domande dai nostri ascoltatori potremo rispondere in diretta sulla base di questo argomento. Qual è secondo te la motivazione per la quale in prima battuta non ci si pone minimamente il dubbio di dover fare questa analisi finanziaria con una persona come te? Credo che queste dirette per noi servano veramente per andare ad incrementare il grado di consapevolezza di un possibile pericolo. E quindi ecco mi auguro con queste dirette che veramente si vada a sensibilizzare quello che è una problematica che non so tu che spiegazione ti dai? Perché le persone... Io faccio sempre una battuta in questi casi, dico sempre che quando andiamo al supermercato la prima cosa che facciamo quando prendiamo la scatoletta e lo yogurt è vedere gli ingredienti, la provenienza, siamo molto attenti a quello che compriamo. Però a volte nelle questioni veramente che vanno a cambiare la nostra vita, l'acquisto di una casa è un'operazione fondamentale, importantissima, siamo un pochino più leggeri, forse perché non lo so siamo legati magari a un'idea tradizionale che il rapporto con la propria banca sia assolutamente a prova di bomba. Invece bisogna sempre sempre verificare, ma verificare con attenzione, verificare con attenzione vuol dire andare o dalla propria banca o rivolgersi a un mediatore di credito e farsi fare una profilazione attenta. Le interviste al cliente che vanno poi a ricavare l'informazione di base, se il mutuo sia o meno concedibile, durano anche un'ora, un'ora e un quarto, cioè sono molto approfondite. Non si tratta di andare in banca e chiedere rilascio di un mutuo che ci dà un preventivo. Sì, il preventivo mi sta dicendo quando mi costa il mutuo se me lo date, ma me lo date questo mutuo, cioè occorre veramente una consulenza approfondita e considerando gli interessi in gioco che abbiamo appena esposto, diventa fondamentale, prima ancora di guardare gli oggetti, capire la propria potenzialità di accesso al credito con una consulenza fatta bene. Che tipo di strumento può avere quindi una persona che si può presentare da un proprietario con il mutuo già approvato, quindi abbiamo accennato una pre-delivera o pre-fattibilità, ecco se magari puoi spiegare con esattezza di che cosa si tratta e qual è il passo giusto da compri. Quindi vado alla mia banca o comunque mi rivolgo a una figura come la tua che sei insomma una persona disponibile anche in giornate dove storicamente le banche sono chiuse tipo al sabato. No, allora la pre-fattibilità, l'idea di fondo qual è? Presentarsi al momento dell'acquisto avendo già una delibera, ma non a parole il mutuo ti verrà dato, avere una certificazione in carta intestata, che normalmente è anche una durata nel tempo, di solito 5 o 6 mesi, termine dentro il quale la delibera che la banca ha dato al cliente deve essere in qualche modo utilizzata concretamente per l'acquisto di un oggetto. Quindi è una pre-delivera non legata a un immobile in particolare, ma a un cliente, alla persona. Non tutte le banche sono attrezzate per questo tipo di operatività, alcune lo sono e secondo me danno un valore aggiunto al cliente e in generale all'operazione enorme, perché uno si presenta serenamente davanti al proprio venditore, sapendo che i soldi ci sono di già, immaginate anche solo l'arma che dà all'agenzia immobiliare nella trattativa, perché vuol dire che l'agenzia immobiliare insomma ha gioco migliore nella trattativa col venditore, magari potrebbe limare un pochino, se è possibile, se ci sono margini ovviamente, limare un pochino il prezzo a favore dell'acquirente, per il solo fatto che lui li ha subito, c'è soltanto da fare la perizia dell'immobile ovviamente, per verificarne l'adeguatezza urbanistica e catastale, oltre che al valore di fondo e a quel punto andare dal metaglio. Quindi è un'operatività molto più snella, niente più clausole di approvazione del mutuo, niente più catene, acquisto, vendo, acquisto, che si possono spezzare perché appunto arrivano dei problemi sul mutuo, tutto è in qualche modo organizzato ed efficiente già a monte. Quindi ricapitolando, io intendo acquistare un immobile e la cosa che faccio, quindi venire da te, produrre ovviamente tutta quella che è la mia, tutte le informazioni che dimostrano qual è la mia, diciamo, redditività e la mia impegno, tutti i miei quelli che sono i debiti che in questo momento sono, sto onorando, attraverso delle banche dati effettuare delle verifiche, quindi perché ognuno di noi sappiamo che è schedato, quindi abbiamo una situazione aggiornata e quindi tu sei in grado attraverso ovviamente i tuoi canali istituti bancari di produrre un documento su carta intestata che dice che il signor Rossi Mario può ottenere un mutuo per un certo importo e quindi sommato al risparmio che il signor Rossi ha da parte può anche orientare la sua ricerca in maniera un po' più precisa, ecco, perché diciamo che la cosa, la difficoltà...